Siamo con Lorenzo De Geri, centrocampista della Gianerminio. Oggi amichevole con la pergolettese, sconfitta, ma è stato comunque un buon test in vista della trasferta a Siena. Sì, assolutamente abbiamo lavorato molto in settimana e adesso naturalmente la testa va a Siena. Questo test era un allenamento in preparazione a Siena. A noi fa sempre fastidio perdere, però prendiamo le cose positive, impariamo dagli errori che abbiamo fatto e puntiamo dritti a mercoledì. Ecco, domenica scorsa hai debuttato in una partita ufficiale, le tue soddisfazioni e inoltre la tua condizione fisica ritrovata? Sì, era tanto che non giocavo, era un bel po' e sono stato contentissimo di entrare e fare il debuto domenica. Poi dopo con la vittoria ho avuto tutto un gusto più dolce e fisicamente sto bene, ho recuperato la forma, sto bene. Adesso queste partite come quella di oggi possono solo che aiutarmi. e niente, sei pronto a aiutare la squadra nel migliore dei modi. Va bene, grazie mille. Grazie.